Il ritorno al cinema dei fratelli Wachowski con la coreggia di Tom Tickver destava non poca curiosità. Primo perché Cloud Atlas è stato avvolto dal mistero per lungo tempo, e poi per l'effettiva peculiarità di un progetto che una volta svelato è apparso più che mai ambizioso. Non riesco a spiegarlo, ma sapevo quando ho aperto quella porta, un potente déjà vu mi ha percorso le ossa. Un escursus storico contemporaneo sci-fi tra le epoche, sei storie differenti tra loro, spazianti tra l'Ottocento e un futuro post-apocalittico ma interconnesse, un romanzo ispiratore, l'Atlanta delle nuvole di David Mitchell, effettivamente difficile da trasporre in immagini. Stordisce già dalle prime sequenze la varietà e l'eterogeneità di ambientazioni che compongono un collage eterogeneo e proprio per questo tanto più spiazzante. Oggi va verso un'altra. Pensa mai che l'universo sia contro di lei? Come una partitura, le diverse storie del film sono assemblate in modo da evitare dissonanze, malgrado la loro continua quasi frenetica alternanza. Nostra vita. Queste forze cominciano molto prima che nasciamo e continuano dopo la nostra fine. Non avrebbe molto senso stare a descrivere nel dettaglio i plot delle diverse storie. Si può comunque sottolineare l'abilità di un castericco e camaleontico, con più ruoli interpretati da ogni singolo attore, tra cui citiamo Tom Hanks, Jim Sturges, Ali Berry e Hugo Weaving. Siamo legati ad altri, passati e presenti. E da ogni crimine e ogni gentilezza generiamo il nostro futuro. Le tre ore di questa insolita, frenetica e ammaliante partitura tra le epoche catturano e intrattengono con stile. La freschezza e l'originalità dello sguardo, insoliti in una produzione di tali dimensioni, rappresentano poi un ulteriore importante elemento di interesse. E io ti attenderò lì.